Il laboratorio CINE-ICE, che vuol dire Artificial Intelligence and Intelligent System, ha il ruolo importante in Italia di raccogliere tutte le università e i centri di ricerca per lavorare assieme nei settori emergenti della ricerca e intelligenza artificiale, facendolo assieme sia a livello internazionale sia con le nostre istituzioni italiane, in particolare con il nostro Ministero dell'Università della Ricerca e con gli altri Ministeri come il MISE, il Ministero degli Esteri e soprattutto con il supporto della Presidenza del Consiglio di Ministri e per lavorare con le aziende del nostro territorio per cercare di migliorare la creazione, la gestione, l'adozione dell'intelligenza artificiale nel nostro Paese. Io credo che sia molto importante lavorare tutti assieme, la ricerca italiana è nota che nel nostro settore è una delle migliori al mondo, non siamo noi a dirlo, ma lo dicono le classifiche internazionali, però abbiamo bisogno di fare sistema con le industrie, con le piccole e medie imprese, sviluppare le start-up e lavorare con le nostre istituzioni. La sfida dell'intelligenza artificiale è ancora molto aperta, siamo all'inizio e possiamo ancora davvero dare un contributo molto forte come Paese all'interno dell'Europa.